Sì, partire da Robert. Bravo, gioco avanti, gioco avanti. Bravo, gioco avanti. È dietro di scocchio. Bravo! Questo spettatore, davanti alla porta, vorrebbe volentire, fatto il dollo. Da parte... Da parte del Dio Milano. 1-0 il parciale, con due minuti segnati sul cronometro di gioco. Palla tra peggio di Antonelli. Ora Antonelli sale sulla faccia per rimetterlo in mezzo a Guillermo, viene stoppato dal difensore del spettatore. Vieni, vieni per me, vieni per me. Vai, dai! Ancora Vion davanti alla porta. Ancora Cioce. Pugni Cioce allontana. Vada, buona, buona... Passa, è diffusa a Vallea, che l'accarine. Ancora... Vai in gioco! Il gioco recupera bene... Alzati, alzati! davanti alla porta potrebbe provare il tiro un tiro distinto fantastico gol guarda l'Alessio guarda l'Alessio guarda l'Alessio guarda lunga guarda l'Erbo farlo il titolio la rete che gol ripressi della difesa del Casanotti pallone pericoloso non riesce ad arrivarci di destra, ciò c'è una impresa sicura forza Edo, forza Edo bravo è solo Guglielmo davanti alla porta un tiro di stilto la palla è lì, potrebbe girarsi a calciare, si tuffa a sciolo una gara di velocità per il possesso palla, diretto a Guglielmo da parte dello scoltore dentro Ale lascia andare, lascia andare era un'ottima palla la palla potrebbe provare il tiro lo scoltore davanti alla porta non riesce a calciare elegante, potrebbe provare il tiro fantastico gol da parte di Nicocco manca circa un minuto al termine di questo match andiamo sabatino subito aggressivo, ripartire Dionna ripipola subito palla però Dionna vuole provare il tiro, viene murato dalle maglie verdi recupera Guglielmo, vuole girarsi, scoppa bene in difensore l'ascoltore l'ascoltore quella che semina fuori dal rettangolo verde Guglielmo Guglielmo il bianco ha provato a anticipare il portiere ma non si è fatto sorprendere il bianco si bravo Mani parliamo quasi di sabatino il tutora assultore tutora assultore che aveva un palla al piede ed ecco gli attivi ciclisti che vengono alla fine di questo match vi ringrazio per essere stati con noi alla prossima